Grazie a tutti. Due ospiti non dico abituali ma hanno avuto già la cortesia di essere con noi in altre circostanze. Saluto pertanto il Monsignor Massimo Camisasca che ci racconterà tramite le parole e le domande che gli rivolgerà Michele un po' della sua storia passata e magari più recente. Il Monsignor Camisasca è milanese, sottolineo questo aspetto perché vedrete che questa sera abbiamo un coro di settentrionali nostri ospiti. È stato vicepresidente del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per gli studi sul matrimonio e la famiglia. Cito solo alcune tappe della sua lunga e prestigiosa storia. Ha fondato nel 1985 la Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo di cui è superiore generale, è stato superiore generale. Dal 2012 all'inizio del 2022 è stato vescovo di Reggio Emilia Guastalla, quindi è una responsabilità terminata qualche ora fa. Ha scritto numerosi saggi e libri tra cui la storia del movimento di comunione e liberazione in tre volumi. E questa sera l'occasione per questo nostro racconto è un libro di cui Monsignor Camisasca ha scritto alla prefazione, Una strada nella tempesta, attualità dell'esperienza di Gregorio Magno e di cui stasera abbiamo qui l'autore che poi vi presento. A intervistare Monsignor Camisasca è Michele Brambilla, noto nostro amico ma soprattutto noto per la sua attività giornalistica. Come si dice? Monzenese? Monzese, quindi siamo a pochi chilometri da Milano. È stato vice direttore di libro, del giornale e della stampa, dal 2015 a inizio 2019 è direttore della gazzetta di Parma e nel marzo del 2019 ha assunto la direzione del quotidiano nazionale che riunisce la nazione, il giorno, il resto del carvino e il telegrafo. Per la sua attività giornalistica è scrittore, è noto un po' a tutto il pubblico nazionale e per questi motivi il 7 di dicembre del 2007 è stato premiato dal Comune di Milano con la medaglia d'oro di civica benemerenza, l'ambrogino d'oro. Dicevo che l'occasione per questa nostra chiacchierata è l'uscita di questo libro, di cui all'uscita potrete anche acquistare le copie, è una strada nella tempesta ed è attualità dell'esperienza di Gregorio Magno. L'autore è Gianluca Attanasio, una sacerdote della San Carlo Bromeo, laureato in filosofia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore nel 1995 e nel 1995 diventa sacerdote appunto di questa fraternità, della quale è stato segretario generale, rettore della casa di formazione e vicario generale. E' autore di diversi libri fra cui questo libro. Siccome è con noi questa sera, io lo pregherei di introdurre questo nostro incontro e di raccontarci con un breve intervento un po' le caratteristiche di questo libro che poi servirà come viatico a Michele per dialogare con il signor Camisasca. A te Gianluca, grazie. Ringrazio Franco Bernardi di questa possibilità, Don Massimo e Michele Brambiglia di essere venuto per questo incontro. Dunque, chi ha iniziato a leggere il libro mi ha detto che rimane stupita del fatto che Gregorio Magno possa essere così attuale. E questa risposta non stupisce perché noi diciamo siamo venuti su dentro una cultura in cui i grandi padri dell'Europa cristiana sono stati del tutto dimenticati o peggio considerati nel peggiore dei modi. Dico, ad esempio, Le Goff, un grandissimo storico del Medioevo, la Civiltà dell'Occidente Medievale, che è un libro bellissimo sul Medioevo, che cosa dice di Gregorio Magno? Eletto Papa durante una crisi della peste nera a Roma, vecchio monaco, Gregorio ritiene che le calamità annuncino la fine del mondo e per lui il dovere di tutti i cristiani è quello di fare penitenza, di distaccarsi da questo mondo per prepararsi a quello che sta per venire. Evidentemente su questo il Papa sbagliò completamente, dato che siamo ancora vivi, il mondo non è finito, era convintissimo lui che il mondo sarebbe finito. Ma questa visione negativa, diciamo, perché queste cose Gregorio Magno le dice, ma non sono il cuore del suo insegnamento. Certamente su questo insegnamento non sarebbe potuta nascere l'Europa cristiana. E allora qui dice di tutto un preconcetto negativo che noi abbiamo sul nostro passato, sul Medioevo, e invece le nostre radici sono nel Medioevo, sono nei grandi padri che ci hanno preceduto e le cose che alcuni di loro insegnano sono incredibilmente attuali. Questo libro attuali, questo libro non è altro che una testimonianza del mio incontro con Gregorio Magno che ho iniziato a leggere vent'anni fa e non sono uno studioso, faccio il prete, adesso sono parroco da otto anni a Torino, però dovendo affrontare nella vita di tutti i giorni, nella mia responsabilità di pastore, di guida delle anime, di insegnante, di guida di una comunità, tanti problemi a cui non sapevo trovare risposta, ho trovato delle risposte eccezionali in questo grande uomo. Qui io ho riportato alcune delle cose più significative che mi hanno colpito della sua frequentazione, ce ne sarebbero tantissime altre, ma anche se io le rileggo adesso, mi parlano ancora. Più vado avanti negli anni, più mi stanca la cronaca che pur leggo tutti i giorni sui giornali, però alla fine trovo una grande superficialità e in questi grandi del passato trovo Gregorio Magno in particolare perché soprattutto lui, e qui concludo, perché è un uomo che voleva fare il monaco e quindi ha preso la profondità del monachesimo, ma poi non si è tirato indietro di fronte a grandissime, enormi responsabilità che ha dovuto portare nella vita e quindi è veramente il padre dell'Occidente insieme a Sant'Agostino perché ci mostra un cristianesimo che non si ritira dal mondo ma che si lancia dentro le responsabilità, le assume, però cercando di non perdere mai l'orientamento in Dio che secondo me è quello che noi dobbiamo ritrovare per poter intravedere una strada verso il futuro perché senza un rapporto con Dio non c'è speranza per il futuro e questo uomo che ha attraversato prove incredibili ci testimonia come è possibile attraversare enormi difficoltà, enormi sfide senza perdere mai la speranza e qui lascio la parola ai nostri più illustri ospiti Grazie Don Gianluca Tanasio, buonasera a tutti io volentieri dialogo con Monsignor Camisasca che è stato vescovo per nove anni a Reggio Emilia all'inizio quando sono stato invitato non riuscivo a capire bene il nesso fra questo libro e il tuo episcopato a Reggio poi mi sono segnato alcuni punti perché mi è venuto il sospetto che tu ti sia riconosciuto in alcune delle situazioni vabbè la prima è stato Papa ma fece di tutto per non farlo non so se tu hai fatto di tutto per non diventare vescovo e poi in tempi di assoluta devastazione e prova c'era la peste tu hai vissuto la pandemia forte sofferenza fisica lui ha avuto 14 anni di pontificato con forte sofferenza fisica enorme attività caritativa per i poveri guida sociale e politica non ne dubitiamo di tutto questo e un conflitto interiore fortissimo queste sono le cose che mi sono segnato in che cosa ti riconosci tu per il tuo tempo da vescovo a Reggio Emilia in queste condizioni che hanno caratterizzato il pontificato di Gregorio Magno? sì innanzitutto buonasera a tutti sono felice di essere qua e di essere qua con voi riassumo in una frase tutto penso che chiunque oggi desideri diventare vescovo debba essere ricoverato in un ospedale psichiatrico o in un carcere no scusate non è una buttada è una cosa seria perché diventare vescovi oggi è una responsabilità molto pesante però lo era anche allora e penso che tanto più grande è la consapevolezza tanto più grande è la ritrosia e io scrissi a Benedetto decimo sesto mi lasci dove sono? dove eri tu? ero superiore della fraternità San Carlo avevo 66 anni a 65 avevo festeggiato con me stesso perché ho detto è scampato il pericolo vescovo non divento più invece mi è capitato l'anno dopo scrissi al Papa mi lasci dove sono io penso che sia una cosa buona questa fraternità mi lasci continuare qui e lui attraverso il segretario un signor Ganswein che tutti adesso più o meno conosciamo per altre ragioni mi scrisse obbedisci con gioia finis bene che cosa io ritrovo beh insomma innanzitutto mi ritrovo con una grande amicizia con Gregorio Magno amicizia perché lo sento un grande fratello e padre che ha percorso le strade che anch'io mi sono trovato a dover percorrere seppure ovviamente con delle responsabilità di gran lunga più grandi e dei problemi di gran lunga più grandi però ecco la prima cosa che mi ha insegnato soprattutto la lettura della regola pastorale la regola pastorale di Gregorio Magno è stato un po' il libro diciamo di comodino sul comodino dei preti e soprattutto dei vescovi di tutto il medioevo il libro di Oscevé come un vademecum ecco per vivere da vescovi o comunque per vivere le responsabilità perché non dimentichiamo che Gregorio Magno era stato sindaco di Roma allora non si diceva sindaco però in una città in cui c'era stata l'esondazione del Tevere in cui c'era stata la peste e poi ci sarà la guerra bizantino-gotica insomma delle cose tremende ecco comunque che cosa mi ha insegnato a non disperare nelle difficoltà ecco che per quanto possono essere grandi le difficoltà io nel mio episcopato di nove anni ho attraversato dal punto di vista esteriore tre crisi il terremoto sono arrivato dopo il terremoto ma con le conseguenze le ferite del terremoto la crisi economica e poi la pandemia quindi ho sentito che fosse la mia responsabilità primaria quella di infondere speranza al mio popolo e perché la speranza non sia semplicemente un discorso retorico quello di indicare colui che può dare speranza alla vita e cioè non ci può essere speranza nella vita se il nostro cuore non si apre a qualcosa di più alto della terra e non ci si può incamminare verso una speranza se non si riconosce il fratello quindi Dio e i fratelli ecco come strada contenuto e motore della speranza penso che quindi in Gregorio Magno ho soprattutto attinto a questa a questo desiderio di vedere la luce oltre il tunnel e di aiutare la gente a vedere la luce oltre il tunnel ho vissuto delle esperienze drammatiche quando sono arrivato mi ricordo a Reggiolo per esempio una delle prime visite che feci fu a Reggiolo dove non solo era stata Reggiolo è stata molto segnata dal terremoto e c'erano case c'erano chiese distrutte e mi ricordo entrai in ciò che restava della casa parrocchiale e era tutto sparso sul pavimento registri libri archivi e mi ricordo che ho preso furore di Steinbeck uno dei libri ho scritto sopra l'ho preso a Reggiolo come ricordo di questo dramma quindi una dispersione tremenda poi l'altra esperienza che ho vissuto nella nella crisi economica diciamo l'acme più profondo della crisi economica che pure Reggio ha delle eccellenze del lavoro nell'occupazione eccetera però insomma noi abbiamo avuto comunque tante piccole aziende che sono fallite e la cosa più terribile sono stati i suicidi andare a trovare le famiglie in cui il piccolo imprenditore si era suicidato perché sapeva che lui domani non avrebbe più potuto pagare lo stipendio ai suoi cinque dipendenti ecco le esperienze di suicidi sono state un'esperienza tremenda e questo della pandemia beh si potrebbe parlare molto a lungo però penso che l'esperienza più terribile nella pandemia sia stata l'ansia e la paura che si è generata determinata dall'oggettività del male certamente ma anche da una immane confusione che è stata veicolata dai mass media e che forse per il desiderio di vendere di più di essere più ascoltati penso poi alla polarizzazione estrema provocata dai social no ha generato nella gente uno stato di squilibrio psichico che a mio parere oggi è ben più grave del problema sanitario e del problema economico sì i media però non è che voglio autosolvermi ma quando un presidente del consiglio si presenta alle due di notte a rete unificate dicendo dovete chiudervi tutti in casa il popolo un po' si spaventa c'è stata anche una politica che ha come dire ce l'ha chiusa in casa non era mai successo assolutamente ma io qui ho citato i media perché è la cosa che più mi colpisce però certamente i media sono stati il veicolo per esempio di tutta questa serie infinita di PCM di fronte a cui la gente a un certo punto sto parlando della prima fase del governo Conte di cui la gente a un certo punto non capiva più niente no? io sfido oggi le persone una persona incontrata per la strada per esempio oggi che pure le cose per un certo verso un po' si sono semplificate a sapere quali sono le varie responsabilità non le sappiamo neanche noi che le pubblichiamo tutti i giorni se mi chiedi la differenza fra l'ultimo decreto e il penultimo e le mascherine io non la so perché ci si confonde però sono i governi che hanno fatto questo ecco Michele trovo perciò io condivido e trovo illuminante quello che ha scritto oggi Susanna Tamaro sul Corriere della Sera Susanna Tamaro lo dico perché è una persona che conosco una persona che stimo una persona molto equilibrata non è una persona che spara delle cose io sono assolutamente contro i Novax ma cioè trovo irrazionale la loro posizione assolutamente irrazionale la loro posizione però sostengo anche che i Novax un po' li abbiamo creati e li abbiamo creati con il nostro confusionismo e con una scienza che talvolta si è presentata come metafisica cioè ma se tu sei scienza proponi proponi dove sei arrivato apro una parentesi per non essere frainteso la scienza ha dei grandi meriti ha trovato dei vaccini in fretta anche se non sono iper sperimentati eccetera eccetera quindi grandi meriti alla ricerca la scienza eccetera chiusa la parentesi no? però tu scienziato allora vieni a proporre un giudizio e lo proponi dogmaticamente cioè questa è la verità questo è già contrario al metodo scientifico ma poi che cosa succede? che lo scienziato B anche lui viene a proporre e dice che anche lui quella è la verità peccato che le due verità sono in contraddizione fra di loro e quindi abbiamo sentito la pandemia non finirà mai la pandemia è già finita la pandemia è in tutto il mondo sta regredendo sta avanzando beh insomma Gesù Maria ma vi rendete conto di sta povera gente che cosa può fare? che cosa può fare? e poi abbiamo portato le famiglie alla disperazione non sapevano più come accudire i propri figli perché dovevano tenerli in casa per via della dad e la casa però era piccola ma c'era anche il marito che doveva fare lo smart working ma insomma cioè si sono create delle situazioni così paradossali e così gravi in un paese per cui hai ragione tu c'è un gradino più su nella responsabilità dei mass media ed è quella della classe dirigente politica soprattutto che non ha saputo gestire questa questa situazione in modo equilibrato è andata troppo sui proclami su sì insomma si è accodata la metodologia dei social io ho anche un sospetto non so quanto possa essere fondato lo chiedo a te e cioè che oltre la classe dirigente e i media che comunque non vengono da Marte ma sono espressione del del popolo alla fine no? i politici sono stati votati da noi ho il sospetto che abbia contribuito a questo clima di terrore anche un cambiamento in tutte le nostre teste di generazione che non ha mai fatto una guerra e che ha sempre vissuto bene in una sorta di comfort zone cioè faccio un esempio a me è venuto questo sospetto leggendo M di Scurati che è un libro bellissimo il primo il figlio del secolo che racconta il bienio rosso e il primo Mussolini fino al 1926 in diretta cosa vuol dire in diretta che non è ricostruito con gli occhi e la mente dello storico ma con quello della cronaca per cui in ogni capitolo ci sono i ritagli di giornali dell'epoca i rapporti della polizia dell'epoca e così via quindi tu vedi Mussolini così come era percepito dai contemporanei perché mi è colpito questa cosa cosa c'entra con la pandemia adesso ci arrivo il bienio rosso che noi abbiamo studiato sui libri di storia appunto perché era un bienio rosso era un bienio di scioperi di manifestazioni di scontri con i fascisti che rifronteggiavano l'intervento dell'esercito un grande scontro in cui l'Italia temeva la rivoluzione bolshevica qui da noi seguiva la rivoluzione russa e sono stati anni di grandissimo fermento e di incontri manifestazioni scioperi comizi d'annunzio con i suoi nazionalisti riempiva le piazze i teatri pieni il libro racconta bene tutta questa storia cosa c'entra con la pandemia c'entra perché il bienio rosso coincide con i due anni della spagnola che era una pandemia ben più grave di questa fatto 100 milioni di morti nel mondo non c'erano i servizi igienici di oggi non c'era la medicina di oggi e così via allora perché dico questo perché evidentemente allora sui giornali si parlava pochissimo della spagnola pochissimo allora noi eravamo cioè l'umanità di allora era abituata a condizioni di vita molto più sofferte e più instabili venivamo da una guerra devastante che aveva fatto milioni di morti c'era la miseria c'era non è che noi ci siamo così tanto spaventati adesso perché non abbiamo più la consapevolezza che la vita è fragile e che può bastare un virus a mandarci in crisi e che vorremmo non morire mai abbiamo questa pretesa sempre di stare bene quando tutte le generazioni che ci hanno preceduto sono state abituate a convivere con pestilenze carestie epidemie eruzioni guerre noi siamo la prima generazione che invece è cresciuta sempre bene ci siamo trovati di fronte a una pandemia seria ma non come la spagnola e siamo andati fuori di testa è possibile? sì è assolutamente possibile e io vi credo molto parto dal fondo cioè se c'è una cosa che vedo poco affermarsi dopo questi due anni è nella gente quello che a mio parere dovrebbe essere invece il portato più importante e cioè la scoperta della nostra fragilità cioè il super ominismo è stata una filosofia di fino a ottocento di inizio novecento il super uomo no? e poi è diventato un progetto culturale e poi è diventato un convincimento di tanti e cioè che in fondo in fondo in fondo ecco la medicina per esempio potrà fare tali avanzamenti da renderci mortali che le tecnologie potranno fare tali avanzamenti da travolgere completamente in meglio la nostra vita e da eliminare ogni difficoltà eccetera eccetera basta un piccolo virus o un piccolo batterio per buttare all'aria tutto questo e l'uomo dovrebbe allora fare una riflessione e dire ma forse non è che tutto questo questo discorso sul super uomo sul super man sul super ominismo no? sia un imbroglio un imbroglio che magari certe società di produzione certi mercati eccetera vogliono imporci per farci pensare che dobbiamo comprare comprare di più comprare sempre di più che staremo sempre meglio eccetera eccetera ora questa cosa perché mi fa riflettere mi fa paura cioè mi fa paura che non stiamo prendendo questo insegnamento perché vedo l'influenza negativa di questa assenza di consapevolezza soprattutto nei giovani allora io ritengo che almeno per gli incontri che ho fatto in questi nove anni per esempio con i giovani a Reggio no? io ho aperto la mia casa a Vescovile ai giovani quindi ho avuto a pranzo a cena dopo cena tantissimi gruppi di giovani perché volevo sapere cosa vivono cosa pensano io non posso stare lì nel guscio chiuso del mio episcopio no? e ho visto e vedo generazioni interessanti quindi non parlo assolutamente di generazioni perdute vedo generazioni interessanti seppure ovviamente ma come era anche nel passato con gradazioni diversissime no? però che cosa vedo contemporaneamente un grande disorientamento e questo grande disorientamento deriva da un'assenza di educatori le grandi fondi educative che nel nostro paese erano la famiglia la chiesa e la scuola sono tutte e tre in crisi in una crisi profonda e i ragazzi molto spesso sono soli sono fra di loro oppure davanti a uno schermo il più delle volte e sono soli quindi per me il più grande insegnamento che dovrebbe venire da questa pandemia per noi uomini del 2022 uomini e donne del 2022 è rendersi conto renderci conto che la storia non è una passeggiata fra alberi fioriti ma la storia implica sudore lavoro anche sconfitte e qui c'è tutto un discorso da fare sulla scuola ma adesso non possiamo aprirlo anche sconfitte prove e poi anche vittorie successi si è si è persa la cultura del lavoro ma questa si è persa anche negli adulti per esempio io vedo poca passione negli adulti in tanti adulti che passano da casa mia per per la bellezza di aggiustare una cosa di un quadro di un lavoro ben fatto di una cosa portata fino in fondo l'approssimazione l'approssimazione perché tanto ciò che conta di più è il tempo libero e fare le cose che faremo quando il lavoro è finito e questo fa rendere il lavoro anche più pesante fra l'altro perché se non c'è un'interazione fra lavoro e tempo libero il lavoro diventa estremamente pesante quindi non c'è questo non c'è finora non abbiamo tratto da questo dalla pandemia un insegnamento positivo sulla nostra fragilità e sulla necessità di affrontare con coraggio le prove e le sconfitte e devo dire che in questo campo anche la chiesa a mio parere ha mancato cioè di che cosa ha avuto paura la chiesa dico la chiesa in generale quindi le parrocchie i preti ma anche noi vescovi un po' ha avuto paura che si attribuisse a Dio la responsabilità del covid dobbiamo evitare in tutti i modi un collegamento fra Dio e covid perché e beh perché se la gente arriva a pensare che il covid è il frutto di un Dio cattivo siamo finiti sì ma questo discorso che a mio parere ha un senso perché Dio non è l'origine del male il covid non l'ha voluto Dio però nasconde tutta un'altra parte del discorso e cioè Dio c'entra o no con la storia dell'uomo perché se va bene Dio non è all'origine del male ma allora sto covid ha un senso o non ha un senso cioè abbiamo buttato via due anni chi è morto è morto in vano chi ha sofferto ha sofferto in vano o forse invece Dio dal male vuole trarre il bene e questo bene è anche un insegnamento sulla nostra fragilità dobbiamo avere il coraggio di dirlo che noi viviamo in un mondo imperfetto che noi siamo imperfetti che noi siamo segnati da tante ferite e non dobbiamo avere paura di riconoscerlo che noi siamo dei malati e che se Gesù ha detto sono venuto per i malati avrà pure qualche ragione e non pensava soltanto all'indemoniato ma pensava all'uomo in quanto tale ecco penso che questo forse sarebbe un insegnamento importante da trarre da questa vicenda e quindi anche questo si è mi sembra il grande insegnamento di Papa Francesco prenderci cura gli uni degli altri prenderci cura gli uni degli altri non in senso moralistico o in senso sentimentale ma sapere che l'altro come me è una persona fragile ferita e che ha bisogno di trovare una strada di futuro e questa strada di futuro non può avvenire senza Dio e questo per me è il grande insegnamento di tutto il pontificato di Benedetto del Cepo Sesto e cioè per dirla con un'espressione che io ho usato a reggio in questi anni che ha un po' del provocatorio e forse anche cabina su tre gambe invece che su quattro ma che Dio è il valore laico più grande che ci sia cioè che la cosa più importante non solo per quei quattro stupidotti che vanno in chiesa o che vivono nelle sacrestie ma per la nostra società è riconoscere che c'è un oltre da quello che noi riusciamo a misurare o a vedere con i nostri occhi e che questo è molto importante che noi abbiamo questo compito nella storia del mondo abbiamo questo compito non tanto di rivelare qualcosa che gli altri occhi non vedono ma di aiutare gli occhi di tutti a vedere più in profondità il cristiano non è un visionario ma semplicemente uno che ha ricevuto il dono di poter vedere più in profondità perché gli altri possano vedere più in profondità ma nel popolo che tu hai incontrato nelle persone ad una ad una che tu hai incontrato in questi anni a Reggio e nel post pandemia durante pandemia quanto hai constatato essere presente questa presa d'atto di una di una fragilità di una provvisorietà di una dipendenza Severino diceva l'uomo nel 2000 non crederà più in Dio crederà nella tecnica però anche lì si è visto che con la tecnica Severino un grande genio filosofico è stato un mio insegnante però non aveva ragione in questo cioè io devo dire onestamente che 9 su 10 persone che io ho ricevuto in questi anni escludi i preti parlo dei laici 9 su 10 persone che ho ricevuto venivano a parlarmi delle loro ferite con questo non voglio dire che fossero che avessero quella consapevolezza di cui parlavo prima e cioè che la ferita è un elemento costitutivo e che dobbiamo saperlo affrontare aiutandoci senza scandalizzarci delle nostre ferite molte volte erano scandalizzati delle proprie ferite e quindi trovavano difficilmente la strada per affrontarle però devo dire che l'esperienza della fragilità e della ferita oggi appare senza senza giungere a consapevolezza piena come l'esperienza dell'umano di fatto e quindi noi uomini di chiesa noi credenti noi che non pensiamo che tutto sia finito con pesi e misure abbiamo questa grande responsabilità di allargare l'orizzonte della vita delle persone quindi io sento un grande grido che sale dalla terra e questo è per me il merito di questo pontificato cioè di averci sintonizzati su questo grande grido che sale dalla terra che non è solo il grido del sud del mondo come pensavamo negli anni 60-70 con Papa Giovanni cioè la pace e la fame nel mondo adesso la fame non è solo nel mondo sud la fame è proprio anche nel mondo nord è un altro tipo di fame ma è sempre fame ed è fame di senso della vita fame di orizzonti fame di gioia ecco il senso della vita alcuni decenni fa e per tutto il novecento chi non era cristiano lo trovava spesso nella politica il comunismo il socialismo la giustizia sociale dare a ciascuno secondo il proprio bisogno e chiedere a ciascuno secondo la propria capacità oppure i nazionalismi la potenza della propria nazione oppure il mito della razza ideali belli brutti giusti sbagliati ma comunque forti in qualche misura totalizzanti questi erano diciamo così i concorrenti del cristianesimo adesso fuori dal cristianesimo di che cosa vive l'uomo qual è il suo obiettivo qual è è solo uno stordirsi nel consumare nell'andare in vacanza nel cercare di avere la salute ma anche gli affetti migliori ma senza una prospettiva ideale allora è chiaro che la cosa più brutta che potrei fare è generalizzare perché in realtà io anche in questi nove anni a Reggio non solo in tutta la mia vita in CL in tante persone che ho incontrato ma anche in questi anni a Reggio ho incontrato persone con ideali veri qual è la grande differenza negativa rispetto a 40 50 anni fa no che sono la maggior parte di loro sono sconnesse sconnesse da altri cioè non c'è più la comunità sono finite le chiese non c'è più la comunità e quindi noi dobbiamo aiutare se vogliamo bene all'uomo a ritrovare dei nessi di comunità cioè per dirla in termini molto elementari forse anche un po' rozzi il vivere assieme non c'è più il vivere assieme ciascuno si chiude nella sua casa o addirittura nella sua cameretta davanti al suo computer con i suoi sentimenti molto fugaci che il giorno dopo non ci sono più quindi questa fine delle relazioni è la fine di qualcosa di ancora più profondo è la fine della materialità del vivere assieme dobbiamo riscoprire il materialismo del cristianesimo e cioè proprio l'evento comunitario e io sono convinto per esempio che Ratzinger avesse ragione quando parlava di minoranze creative cioè oggi quello che cosa è avvenuto nelle nostre parrocchie per esempio è avvenuto che la pandemia ci ha portati improvvisamente a vedere quello che altrimenti avremmo visto fra vent'anni e cioè che noi siamo poca cosa numericamente siamo poca cosa numericamente poi idealmente possiamo essere anche agli occhi di Dio molto di più o molto di meno no? allora noi dobbiamo prendere atto di questo ma non per deprimerci no noi dobbiamo tornare a diventare delle piccole o grandi comunità che sanno vivere delle relazioni che siano una fiamma per gli altri uomini un punto di riferimento una luce senza chiuderci agli altri quindi diciamo della tanto per rifarmi all'opzione benedetto di Dreher quello che io criticai di Dreher era l'impressione la percezione di chiusura di mondo protetto di fortino che non deve essere attaccato no noi dobbiamo vivere delle relazioni intense comunitarie che abbiano la capacità di incidere sulla nostra comunitarietà di idee di beni e di prospettive ma assolutamente aperti agli incontri con tutti cioè dobbiamo essere quello che Gesù dice luce visibile per il mondo sale della terra sale della terra sì c'è stato però negli ultimi decenni nella chiesa c'è stata la tentazione ancora una volta dell'egemonia culturale no? la cristianità che non è il cristianesimo sono due cose diverse è un'illusione da archiviare definitivamente quella ma direi che la cristianità è innanzitutto una parola che ha designato un termine storico cioè Costantino 1860 cioè la fine del potere temporale no? e che ha avuto dei grandi meriti questa storia per la chiesa stessa no? poi l'umanità giudicherà come vuole no? ma che doveva finire non è un caso che abbiamo avuto così tanti papi santi nel novecento non avevano più sulle spalle le guerre che dovevano fare prima insomma l'unico che è stato fatto santo cioè non santo beato sul crinale è stato Pio Nono no? l'ultimo che ha dovuto uccidere delle persone o farle uccidere dopo di lui per fortuna non è stato più così quindi quindi io penso che la cristianità come quel progetto è finito ma non è finito però la necessità della visibilità della fede della sua influenza sulla società questo no assolutamente e è finita l'idea di un occidente cristiano ma non è finito per me assolutamente l'idea di un'influenza della vita cristiana sulle culture quindi dobbiamo secondo me uscire da una visione per cui la fede generi una cultura quella cultura no? dall'opposto la fede non genera nessuna cultura è un mondo di angeli no no la fede vive nella storia però oggi questa storia deve fare i conti con la molteplicità delle culture delle etnie delle lingue eccetera che cosa ne verrà fuori non lo sappiamo perché noi siamo gli inizi noi oggi viviamo in un mondo e questo è anche una delle ragioni dell'incertezza e in un certo senso anche di certe nevrosi no? cioè viviamo in un mondo in cui possiamo dire cosa non c'è più ma facciamo fatica a dire che cosa ci sarà è vero è il mondo in cui l'erba sta cominciando a crescere però non vediamo ancora gli alberi non c'è neanche la savana vediamo solo qualcosa che sta venendo fuori ma non è forse questa la fede il contenuto fondamentale della fede cioè saper vedere in un piccolo presente il bambino di Betlemme è l'inizio di qualcosa che crescerà e che verrà a proposito di fede di questa visione trascendente tutto sommato cioè qualcosa che trascende il visibile del momento vengo l'intervista che ha fatto Papa Francesco da Fabio Fazio a che tempo che fa alcuni e anche il giornale che io dirigo con un articolo di Lucetta Scarafia che ha lavorato come sai molto con Papa Latzinger hanno criticato il Papa dicendo sostanzialmente due cose una che ha fatto passare il messaggio io sono uno di voi sono uno come voi ho bisogno di amicizia ho bisogno di umorismo leggo il libro non so spiegarmi perché c'è il male innocente dolore innocente sono uno come voi sono un peccatore eccetera mentre scrive Lucetta Scarafia noi abbiamo bisogno di una guida spirituale di qualcuno che sia più forte di noi e che ci traini la seconda critica è che questo Papa parla molto di cose terrene di carità i poveri gli immigrati la guerra cose tutte giustissime ma parla poco di Dio e della visione verticale di Gesù Cristo questo io ho scritto il contrario per cui essendo un direttore spero liberale sento ospito più opinioni però tu lo sai meglio di me questa diatriba c'è nella Chiesa tu come hai preso quell'intervista e cosa pensi perché qualcuno dice no ma in fondo tutto quello che ha detto il Papa sono cose evangeliche perché Gesù che cosa ci ha detto Gesù non ci dice quando ci presenteremo di là quanto sei stato credente o se eri per Ratzinger o per Francesco o per von Balthasar o per padre Boff ci dirà avevo fame mi avete dato da mangiare avevo sete mi avete dato da bere tutto è riportato sulla carità quindi qualcuno dice quello che dice il Papa è evangelo puro altri dicono parla solo come un un filantropo un sindacalista un uomo buono e giusto un pacifista ma non come un cristiano sì allora io penso che il pontificato per quello che posso capire che il pontificato di Papa Bergoglio di Papa Francesco ha questo grande merito di avere messo in luce che noi dobbiamo andare a incontrare gli uomini e cioè la cosiddetta chiesa in uscita quello che a me dà molto fastidio poi è il diventare slogan di queste frasi che finiscono per svuotarle poi alla fine ma invece in questa idea della chiesa in uscita c'è qualcosa di veramente importante si noti bene di assolutamente tradizionale nel senso positivo della parola cioè è la chiesa come missione e la chiesa senza missione non esiste la chiesa senza incontro con gli uomini e devo dire che le nostre parrocchie sono benché è nove anni che ci sentiamo in uscita sentire dire in uscita sono tutte in entrata cioè non si muovono e quindi penso che questo invito sia estremamente importante secondo io personalmente da Fazio non ci sarei andato ma anche non perché noi non dobbiamo incontrare chiunque dobbiamo incontrare chiunque però dipende da chi io incontro in casa e da chi incontro sulla pubblica piazza no? e cioè in altre parole non avrei avvalorato il Vangelo di Fazio ecco però detto questo il Papa probabilmente ha una visione più ampia della mia e vede più cose di me e sa più informazioni di me no? poi questi che dicono il Papa ha una valenza politica e solo politica oppure no perché è quello di cui lui parla il contenuto del Vangelo lui ha certamente una sensibilità politica molto spiccata questo è indubbio no? e ha un linguaggio anche che viene dalla sua esperienza latinoamericana anche dalla tradizione peronista e dalle esperienze personali che hanno segnato la sua vita non è vero che non parli dell'aldilà che non parli degli angeli che non parli di Dio eccetera molte cose che Papa Bergoglio dice sono un po' offuscate dai media e sono esaltate solo altre e poi non è che ciascuno di noi debba necessariamente coincidere con la sensibilità di un Papa la infallibilità del Papa è altra cosa dalla sua sensibilità quanto hanno capito però Papa Francesco coloro che lo osannano tanto secondo me pochissimo fuori dalla chiesa sto parlando sì secondo me pochissimo come a mio parere io ho visto in questo fenomeno qualcosa di analogo a quello che era successo con il cardinale Martini cioè il cardinale Martini è stato fin dall'inizio catturato da Repubblica e potrei dire anche da nomi e cognomi di quella signora che era la moglie di Giorgio Bocca lo dipinsero come l'antipapa e forse lui si sarebbe dovuto divincolare un po' di più perché non è bello essere dipinti come antipapa andiamo avanti con i papi pochi giorni anzi poche ore dopo l'intervista che tempo che fa il Papa Emerito ha reso pubblica una lettera sulla questione della pedofilia nella quale chiede perdono non per la Chiesa ma per sé cioè per i propri personali errori è un fatto inedito come interpreti questa lettera di un Papa che tu so che ami molto sì io amo molto Benedetto e trovo sempre degli segliaventi molto profondi nei suoi testi e anche in questa lettera che a mio parere è così come io lo sento un capolavoro di equilibrio psicologico innanzitutto perché ma perché non so io mi metto nei suoi panni o nei miei panni ecco se io avessi subito non dico da Papa ma come vescovo della diocesi di Reggio Emilia un linciaggio di quel genere non so se sarei riuscito a rimanere così equilibrato come è rimasto lui ha un capovolgimento simile della verità perché Benedetto è stato l'uomo che più ha fatto nei confronti delle vittime di pedofilia e nei confronti della necessità di denunciare i carnefici e Papa Francesco ha fatto tantissimo ma l'ha fatto sulla scia di Benedetto quindi qui siamo veramente al capovolgimento della verità e questa è una cosa che grida a mio parere vendetta di lui ecco quindi lui invece ha saputo ha saputo sentire tutto il peso della responsabilità anche proprio dice io ho avuto grandi responsabilità nella chiesa come vescovo come prefetto della congregazione della fede come Papa attenti grandi responsabilità nella chiesa non ha detto ho avuto grandi responsabilità nei delitti degli uomini di chiesa ho avuto grandi responsabilità nella chiesa e quindi in questo senso io non ho coperto niente ma devo fare anch'io il mio mea culpa perché tutti noi comunque abbiamo una corresponsabilità in questa vicenda in queste vicende nel non aver gridato a sufficienza ecco però nello stesso tempo il suo equilibrio lo ha portato lontano da ogni anacronismo non è che con questo vogliamo dire che la chiesa è un corpo unico di peccato intendiamo i casi maggiori di pedofilia sono nelle famiglie purtroppo tragicamente è così sono nel mondo dello sport purtroppo tragicamente è così e perché non si dice niente di questo? forse perché al cristianesimo si chiede qualcosa in più benissimo allora sono d'accordo sono d'accordo sono d'accordo però non facciamo le università di ipocrisia allora diciamo c'è una responsabilità gravissima degli uomini di chiesa perché loro sono dovrebbero essere dei maestri e degli educatori poi se siamo credenti ancora di più perché loro hanno ricevuto un sacramento che li rende maestri educatori e quindi la loro responsabilità di uomini di chiesa è più grave perché con quello che fanno uccidono il volto di Dio nella coscienza dell'uomo e del bambino no? però non fermiamoci qui non solo la chiesa non è solo questo grazie a Dio ma questo male va combattuto anche altrove e poi direi ultima cosa va combattuto in profondità perché queste radici di male sono le radici di peccato che ci sono nella società poi c'è una responsabilità all'educazione e al discernimento io naturalmente come uomo di chiesa superiore della fraternità a San Carlo per 27 anni vescovo per 9 anni mi sono chiesto ma come è potuto accadere no? e le risposte che mi sono date sono queste risposte provvisorie noi abbiamo avuto degli educatori inadeguati 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 perché? perché venuti fuori da una mentalità sessuofobica come era il cattolicesimo dell'ottocento e di parte di inizio del novecento cioè il tema della sessualità e della maturità affettiva noi come cristiani almeno in Italia non l'abbiamo saputo affrontare non l'abbiamo saputo affrontare quindi questo è un tema importante quindi avevamo dei formatori che dovevano operare discernimento su questioni che loro stessi non avevano risolto per la loro persona o affrontato per la loro persona e quindi abbiamo lasciato passare queste patologie tenendo presente una cosa che purtroppo le patologie ci saranno sempre e che non è che con tutte le attenzioni possibili immaginabili le commissioni contro gli abusi eccetera abbiamo risolto tutti i problemi del mondo perché i problemi del mondo saranno risolti soltanto con il ritorno di Cristo quindi dobbiamo fare di tutto consapevoli che la fragilità purtroppo è costitutiva dell'uomo chiedo al padrone di casa quanto tempo abbiamo ancora dieci minuti allora torniamo nel nostro piccolo mondo mondo piccolo tu sei stato vescovo in una terra dove ci sono ancora le statue di Lenin dove la chiesa è stata il partito per tanti anni è ancora così cosa è cambiato ma potrei dire che è cambiato tutto e che forse invece alcune cose in realtà non sono cambiate è cambiato tutto come dicevo prima perché non ci sono più le tue chiese no la chiesa cattolica e il pc perlomeno il pc non c'è più però è veramente morto il sistema di potere nato dal pc in secondo luogo non c'è più la chiesa cattolica come era vissuta allora ma grazie a dio la chiesa cattolica c'è ancora quindi faccio tutte queste distinzioni no io direi che c'è un sistema di potere ancora molto forte no legato a delle realtà che sono nate dalla sinistra e che poi a poco a poco si sono staccate dalle idealità della sinistra penso le cooperative per esempio quando io mi sono permesso di dire forse già sei anni fa o cinque anni fa adesso non ricordo più che per me era profondamente immorale che i soldi che le famiglie avevano dato alle cooperative per creare quei fondi che le cooperative dovevano usare per incrementare la loro missione no fossero poi stati investiti e perduti no e sono stato accusato da loro di paleocapitalismo cioè un un sistema di potere che per apparire moderno sostiene che la finanza ha ragione anche se questo comporta il disastro di decine e decine di famiglie vuol dire allora che i valori che guidavano la chiesa comunista non ci sono più e c'è soltanto anche lì l'individualismo c'è il radicalismo dei diritti dell'uomo che si vogliono fare passare tra l'uni casi sono anche giustissimi e giustificati ma nell'insieme come pacchetto hanno sostituito di fatto le idealità di un tempo erano meglio i pepponi di una volta ma direi di sì anche perché mi sembra che purtroppo quello che è venuto meno in gran parte ma non sto parlando solo della sinistra ovviamente sto parlando anche della destra e del centro è proprio il tema dell'idealità cioè per non essere idealisti di un disegno più ampio che sia la pura gestione del potere ecco purtroppo in molti casi si assiste alla pura gestione del potere e questo è molto triste molto triste quindi dobbiamo la classe politica deve rigenerarsi dal basso per esempio io l'anno scorso no due anni fa poi dopo vabbè c'è stato il covid quindi si è impantanata un po' la cosa ma comunque ho fatto per San Prospero tutti gli anni il discorso alla città i cattolici e la politica e dopo quel discorso ho fatto una scuola no quattro incontri eccetera è venuta tanta gente no ma dai partiti quasi nessuno sto parlando degli amministratori locali insomma no non avevano bisogno di imparare nulla o forse non c'è più l'idea di scuola e io penso che dobbiamo invece non tornare alla scuola delle frattocchi e piuttosto che però dobbiamo tornare io ho detto a questi ragazzi vogliono impegnarsi in politica ragazzi studiate 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 cioè perché alla fine anche quello conta molto perché non si sa più niente ma domani sono 30 anni dal momento in cui si è cominciato a demonizzare la politica in cui sono stati distrutti i partiti tutto quello che era stato costruito nel dopoguerra dalla democrazia cristiana al partito comunista i socialisti che erano poi tutte le anime del paese i repubblicani i laici a un certo punto si è voluto dire che siccome erano tutti ladri che poi non era vero che erano tutti ladri ma i partiti dovevano sparire doveva esserci la società civile basta con i professionisti della politica poi dopo c'è stata l'antipolitica c'è stata la democrazia diretta di Grillo piattaforma Rousseau basta con il Parlamento cioè 30 anni fa è cominciato un processo forse inevitabile perché tutto finisce doveva finire anche la prima repubblica ma un processo di disintermediazione che prevede la scomparsa della politica la politica è stata considerata una cosa schifosa pensa che oggi vedevo dei sondaggi ho visto un sondaggio di poco tempo fa di Pagnoncelli i magistrati che avevano il 95% di consenso 30 anni fa al momento rimane pulita adesso sono sul 39% mi pare ma la politica rimane al 10% quindi è un valore da recuperare anche questo sì assolutamente e voglio voglio dire una cosa allora per me il punto è questo perché i partiti sono finiti va bene sono finiti per tante ragioni sto parlando dell'Italia ovviamente sono finiti i blocchi quindi le giustificazioni ideologiche eccetera quindi le ragioni sono tante ma sono finiti anche perché potevano nascere dei nuovi partiti potevano nascere delle nuove idealità sono finiti perché si è voluto che finissero e fra le tante ragioni per cui si è voluto che finissero è perché si vuole sostanzialmente che l'uomo sia solo e perché l'uomo deve essere solo no perché è meglio la fluidità dei sentimenti perché è meglio la fluidità dell'identità sessuali perché è meglio la fluidità della vita perché al supermercato si compra di più se io ho una famiglia e dentro nel supermercato è diverso che se io devo rispondere solo di me stesso quindi ci sono oggi delle logiche di mercato così potenti no che in fondo quello che desiderano è che l'uomo sia solo l'individuo l'individuo uno conta uno uno uguale a uno no l'individuo quindi tutto ciò che può essere diciamo anello di congiunzione fra gli uomini vedi l'attacco alla famiglia appunto ma anche l'attacco ai partiti è nella stessa logica in fondo perché perché l'uomo solo è l'uomo che può essere più facilmente manipolato e questo è per me il dramma di questo momento e la risposta è chiaro che poi deve essere costruita è il ritorno al senso della comunità senza comunità c'è solo l'individuo ultimissima tra poche ore finisce il tuo mandato di vescovo a Reggio Emilia che cosa farai da grande farò da grande queste cose la prima vorrei riposare ma però c'è tanti modi per riposare la seconda vorrei avere più tempo per pregare e per ricordare perciò le persone perché la preghiera è un silenzio popolato di nobili la terza cosa che vorrei fare è poter leggere di più cioè cominciare un libro pensando che forse lo finirò e la quarta cosa che vorrei fare è scrivere con più agio e la quinta cosa che alla fine farò ancora è parlare grazie grazie grazie